Il comune di Mazzarra Sant'Andrea ha ottenuto circa un milione di euro per consolidare il proprio territorio, si tratta del costone Ceroliva. La culla dei vivai, tra i sei comuni ad avere beneficiato fondi in provincia di Messina, è stata inserita in una graduatoria nazionale. Ma le buone notizie non finiscono qui perché è stato notificato il decreto per l'adeguamento sismico, la realizzazione del locale Mensa e l'implementazione dell'efficienza energetica per un milione e 250 mila euro del plesso ES2. Era stato l'unico a non essere interessato da lavori e ora sarà possibile grazie a risorse regionali dopo che il Ministero dell'Interno ha già concesso 92 mila euro per la progettazione curata dall'ingegnere Ezio Sacca. Altri interventi per scuole vedranno ora la luce e saranno consegnati alla collettività per l'inizio di questo anno scolastico, i lavori di miglioramento ed adeguamento sismico della media di via Nuova Ceroliva per 450 mila euro e l'abbattimento delle barriere architettoniche ed adeguamento degli impianti dello stesso plesso per 895 mila euro. Questi due progetti sono stati parte di un pacchetto di quattro finanziati dal Governo nazionale nell'ambito dei contributi per la messa in sicurezza degli edifici del territorio. Mazzarra Sant'Andrea è stato l'unico comune in provincia ad ottenere risorse di questo tipo ottenendo anche fondi per la messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico del letto e della sponda del torrente Mazzarra per 300 mila euro e oltre un milione e 800 mila euro per la ristrutturazione e riqualificazioni di palazzoli vuoti e aree adiacenti da adibire a museo etnoantropologico.